Benvenuti, ci troviamo in via Cellinia, abbiamo il piacere di proporvi questo appartamento in locazione. Verrà consegnato a stretto giro per la metà del mese. Iniziamo con la visita, è un sette vani, il riscaldamento è centralizzato, l'acqua calda è centralizzata, abbiamo il servizio di portineria. L'appartamento, come si può ben vedere da queste immagini, riviene tinteggiato tutto quanto, verranno cambiati anche gli infissi che attualmente sono in legno, verranno messe quelle in PVC di ultima generazione. Questo è un maggiore dettaglio della prima camera. Usciamo, abbiamo questo bellissimo balcone, l'esposizione come si può ben vedere è un est. Abbiamo di fronte a noi piazza Martinez, quindi comodissimo, siamo al primo pezzo. Rientriamo nell'appartamento e ci dirigiamo verso la cucina living con la sala. Quindi qua abbiamo la cucina che, appunto, come si può ben vedere adesso, stanno facendo tutti i lavori. Quindi abbiamo la sala con la cucina living. Qui vediamo nell'insieme la cucina living. È un appartamento molto soleggiato. Continuando, ci rimettiamo nel corridoio. Questo, appunto, è l'ingresso. Qui abbiamo l'altra camera, una camera singola. Qui abbiamo la camera matrimoniale, ampia. Lo guardiamo da questo altro punto di vista. Usciamo, o meglio, apriamo la finestra che era già aperta. Questo è quello che possiamo vedere dalla camera da letto. Quindi qua siamo a un'ovest. E infine andiamo verso il bagno. Il bagno plasterlato verrà messo il box d'occia nuovo. Come vedete, proprio in fase di riqualificazione integrale dell'appartamento. Quindi il bagno, la camera da letto, ampia. La camera singola. Qui c'è il quadro elettrico nuovo, come vi dicevo. L'ingresso. L'altra camera. E terminiamo la visita dalla zona living. Con la cucina. Usciamo fuori dal terrazzo. Ci troviamo in via Cellini.